Ciao a tutti, un video velocissimo per dire che Fujifilm ha rilasciato tre aggiornamenti firmware per la XA5, XA3 e XA20. Dunque, per le XA20, XA3 e XA5 c'è un comune aggiornamento che riguarda la possibilità di mettere, quando si mette in auto l'ISO, si parte da 200 nelle modalità PSAM e ADV mode, quindi prima evidentemente non era possibile. Inoltre è stato corretto il fenomeno che in alcuni rari casi l'intervallometro si ferma. Questo è l'aggiornamento comune tra XA3, XA20 e XA5, mentre nell'XA5 abbiamo degli ulteriori aggiornamenti, cioè la nuova introduzione del nuovo algoritmo PDAF che è stato introdotto con l'XT100 che, a quanto dicono, aumenta la velocità di autofocus e l'accuratezza. L'estensione, inoltre, del tempo di registrazione video. La visibilità dell'LCD è stata aumentata, qui si parla di improved, durante gli scatti, le CL shooting, quindi gli scatti a velocità ridotta. Inoltre, l'utilizzabilità dell'HDMI in uscita è stata aumentata e questo upgrade, a quanto pare, elimina le limitazioni di tempo. Inoltre, la grafica dell'interfaccia quando il monitor è invertito di 180 gradi è stata modificata. Quindi Fujifilm ci conferma che tiene abbastanza a miglioramenti e aggiornamenti dei propri firmi e delle proprie macchine fotografiche. Molto interessante, direi, questo nuovo algoritmo PDAF che, onestamente, spero di poter vedere nelle macchine ammiraglia, soprattutto, ovviamente, nelle LX2, che è la macchina che ho io. Quindi, un aggiornamento veloce, giusto per dirvi questo. Vi lascio i link, ovviamente, in descrizione. Ciao a tutti!